Quale ruolo può avere la Regione perché questa sperimentazione diventi pratica nei campi? Allora è importante la presentazione avuta oggi di queste tecniche e la Regione in parte ne sta già tenendo conto nel programma di sviluppo rurale, nel complemento per lo sviluppo rurale con alcuni interventi che vanno proprio in questa direzione. Sicuramente la Regione porta a casa oggi alcuni suggerimenti scientifici, alcune osservazioni nel merito pratico di implementare questo tipo di interventi su una platea più ampia di agricoltori e al tempo stesso la Regione ne fa tesoro non solo per gli aspetti di immediata applicazione da parte degli agricoltori ma anche per tutte quelle azioni di supporto, di accompagnamento che necessariamente portano alla diffusione di queste pratiche. Dal suo punto di vista è più una questione di cultura o di risorse? Ottima domanda, è l'una e l'altra. Sicuramente siamo ancora nella fase in cui, a mio avviso, per l'esperienza che ho di questi strumenti, è più una questione di cultura e di diffusione delle informazioni. Poi è indubbio che anche il tema delle risorse è fondamentale per poter agevolare. E per concludere, è più una questione italiana o una questione europea? La tematica della qualità del terreno sul cui fare agricoltura assume connotazioni diverse alle diverse latitudini del continente. Indubbiamente è un tema europeo, però le soluzioni devono essere confezionate e personalizzate sulla realtà italiana e addirittura sulla realtà di ciascuna regione che compone il nostro paese.